...de verdi napoletani, sembrano parole mie, come si può arrivare a rubare un cassonetto? Come è possibile che una persona trasporti un oggetto del genere a bordo di uno scooter? L'inciviltà è fuori controllo! Sentito amici miei di Napoli che rompete i coglioni a me? L'inciviltà è fuori controllo e affermare il contrario significa nascondersi ipocritamente dietro un dito. Ah io lo conosco, questo è il consigliere dei Verdi che denunciò in ospedale le formiche. Sì, sì, occorre fare i conti con la realtà, occorre fare i conti con la realtà. Voi non fate spesso i conti con la realtà, cari Bellavia e compagnia cantante, che ancora insistete a rompermi le balle. Senti, lui è napoletano però, vedi? Mica è fria, appunto, è che tu hai detto, ma non mi dico cazzo. Eh no, questo è importante, ho capito perfettamente, ma proprio contro i tuoi luoghi comuni, vedi che a Napoli invece c'è anche una Napoli come questa. Tu dici il contrario, tu dici i napoletani, quello è napoletano infatti, vedi, è un napoletano che ha denunziato questa cosa. Scusami, quando tu usi la parola sovranisti, quando tu usi la parola sovranisti, quando tu usi la parola sovranisti, metti insieme dentro gente che la pensi in 40 modi diversi, ma che cazzo dici? E poi non distruggere l'Europa, tutte persone che hanno come denominatore comune la distruzione.